Ciao, io sono Luca Auletta e sono qui per presentarti il mio corso VFX for Videomaker. Questo corso è dedicato a tutti i videomaker o aspiranti filmmaker che hanno a che fare tutti i giorni con contenuti digitali, che si ritrovano sempre più spesso con la richiesta di elaborazioni digitali delle proprie immagini. Il mondo degli effetti visivi è un mondo molto complesso e vasto ed è importante, oltre alla tanta pratica, anche un pizzico di teoria. E con questo corso voglio darvi un'infarinatura completa sul mondo degli effetti visivi e darvi uno sguardo su un mondo completamente nuovo. Dato che oggi nel mondo odierno della creazione di contenuti digitali è sempre più richiesto il modificare degli elementi digitali, quindi le immagini che noi andiamo a realizzare, ci vengono sempre per forza incontro quelli che sono gli effetti visivi. Ma non tutti i videomaker hanno le capacità o almeno le conoscenze di base per cominciare ad affrontare il mondo del ritocco digitale. Per seguire il corso VFX for Videomakers non c'è bisogno di alcuna conoscenza pregressa del mondo del 3D, del compositing, degli effetti visivi. Perché? Partiamo completamente dalle basi. Parliamo di cosa sono gli effetti visivi, di quali sono le tecniche e perché ci sono quelle tecniche. Ed andiamo ad analizzare anche un pochino la storia e da dove derivano quelle che sono le tecniche più famose utilizzate nei grandi film hollywoodiani. Imparare a realizzare qualcosa è sempre importante, ma prima di mettere mano su mouse e tastiera è importante conoscere quello che si sta per fare.